ciao a tutti ragazze e ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi continuiamo la costruzione di Ironman della sua armatura uscita numero 25 andiamo subito nella pagina dei componenti dell'assemblaggio allora abbiamo da costruire in questo numero il pollice della mano sinistra e poi l'indice della mano sinistra abbiamo pochi componenti da assemblare ma molto semplici lo prendiamo queste due parti e le uniamo dobbiamo vedere che c'è una scritta 1 l che è il primo componente della mano sinistra riuniamo in questo modo e mettiamo una vite fp da questa parte dove il buco è più grande cominciamo a stringere non dobbiamo stringere troppo che altrimenti non riesce a girare stringiamo un altro po perfetto dato pochettino vediamo ce la facciamo senza rubare niente se si vede già la vite si sta passando all'altro lato ok direi che va bene andiamo ad assemblare il dito indice ora prendiamo questo pezzo lo prendiamo con il secondo pezzo dove c'è scritto due l lo prendiamo in questo modo mettiamo una vite sempre fp quella quella lunga cominciamo ad stringere ad avvitare attenzione ad avvitarla dritta perché altrimenti non riesce a passare dall'altro lato ci siamo quasi ecco qua direi che già qua si vede un pezzettino di vite va benissimo ed è abbastanza dura ok prendiamo un altro pezzo lo uniamo con la vite giriamo la pagina vediamo cosa dice per completare l'indice non ci resta che unire l'ultima parte e fessare insieme il tutto con una vite cp ah dimenticavo di dirvi che qua deve essere dritta lo prendiamo una vite cp inseriamo qui e cominciamo a stringere non dobbiamo stringere troppo a fondo in modo da permettere il movimento delle articolazioni un altro pochettino perfetto questo è l'assemblaggio di oggi pollice sinistro e indice sinistro da unire al resto della mano qui abbiamo come al solito l'esploso del pollice dell'indice della mano sinistra che abbiamo fatto e dove vanno collocati ok diamo un'occhiata alla rivista numero 25 dalla prima pagina e abbiamo la storia di Ironman un giovane nel tempo il giovane Ironman un viaggio nel tempo questo è Ironman da giovane questo quando diventa grande qua un bel disegno con Ironman contro Frostbite qui sotto il maggio d'uomo di Tony che si chiama Jarvis che poi è film e un computer con la pagina del montaggio qua abbiamo nei fumetti autore di ferro il lasciato Marvel particolare copertina l'inforzare del lac McDonnell The Invisible Iron Man Iron Man Invisibile Vagliate a spettacolare a sto disegno Con la storia dell'armatura Still Armor 2 Prova a prendermi Black Panther Qua c'è l'armatura Invisibile Si scontra contro Black Panther Ok Nel prossimo numero Cominciamo a costruire la seconda parte della mano sinistra Ok per questa uscita è tutto Grazie per la visione A presto Ciao